Ciao a tutti, bentornati e benvenuti nel canale. Benvenuti ai nuovi iscritti che ho visto che ultimamente sono cresciuti e la cosa veramente mi fa molto molto piacere. Siamo qui con il tanto atteso, tanto 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 video sui saldi. Allora devo dire la verità, io questo video avrei potuto girarlo molto molto tempo fa, tanto è vero che vi ho anche chiesto su Instagram se aveste voluto comunque questo video. In tanti mi avete risposto sì e la cosa insomma mi ha fatto molto piacere, soltanto che devo dire la verità appunto, io ho fatto degli acquisti però non ero molto molto convinta, tanto è vero che li sono andate a cambiare e in più stavo aspettando anche questa qui perché ho fatto un ordine online perché non c'erano le taglie e quindi volevo accorpare un pochino tutto e per questo motivo ho aspettato. Sono cose che trovate assolutamente ancora in negozio perché appunto io sono andata a cambiare il vecchio shopping con questi capi che adesso vedrete. Per la prima volta dopo tanto tanto tempo Zara ci ha dato delle gioie e ho trovato veramente un bel po' di cosine e a dirla tutta erano anni che io da Zara non trovavo qualcosa, tanto è vero che per quanto mi riguarda nel periodo di saldi riuscivo a comprare ovunque tranne che da Zara e invece quest'anno veramente quasi solo Zara è qualcosa da Tezenis. Ma andiamo avanti altrimenti il video diventa lunghissimo. La prima cosa che voglio mostrarvi è questo vestitino che avevo anche al contrario che io già ad occhiavo da un pochino di tempo, è praticamente lungo, porta questo merletto anche giù ed è fatto comunque a bretelline e dietro ha questo merletto che riprende quello finale. È un vestito che io adoro tantissimo da mettere ad esempio con una t-shirt bianca sotto o in estate quando si è belli belli abbronzati anche così insomma. Tetti al vento e senza reggiseno perché insomma è abbastanza particolare come scollatura e niente mi piace molto molto molto. Credo che vi farò vedere appunto i vestiti indossati così come li indossero io, penso di indossarli io. Mi piace molto perché è una fantasia scozzese che io amo ma amo appunto anche non a Natale, magari questa non è molto natalizia, magari e quindi la posso mettere tutto l'anno, adoro. Tutto ciò che vedete adesso sono tutti i vestitini che io ho preso e che stavano, adesso vediamo un attimo, aspettate, stavano 49 euro e adesso, anzi vi lascio anche il codice nel caso in cui vi possa servire. Ecco qui, metti a fuoco, metti a fuoco, voilà. Stavano appunto 49 euro e 95, vabbè 50 euro e l'ho pagato a 23 euro. Ho preso una L perché appunto di seno non mi stava ed è questo vestitino così, lungo, anche questo, ho preso quasi tutto lungo, è tipo appunto a camicia e ha i bottoncini fino alla fine e mi piaceva tantissimo questa fantasia. Dovete sapere che io amo i fiori, follemente, li amo tantissimo e questa fantasia per me è proprio estiva, non so come si possa mettere in inverno e mi piace tantissimo e in realtà è anche molto approvata da mio marito. Io ho mandato una foto mentre ero in camerino e lui mi ha detto sì, bellissimo, sarai sicuramente bene, abbronzata. Poi, ah vabbè ragazzi, ho preso questo che per me è veramente fantastico, quindi ho detto tutti i vestiti che state vedendo 23 euro o 24, adesso vediamo subito, sì, 22,99 ecco qua. Questo qui ho preso una M perché è molto molto più bello, svolazzante e lo adoro da morire. Allora, ve lo voglio un attimo chiudere perché altrimenti non si capisce. In realtà questa è una tutina, è una tutina molto carina e da mettere, insomma per tutti i giorni proprio no, però questa fantasia con i fiorellini io la amo tantissimo. Guardate, ve la faccio vedere un attimino da vicino questa fantasia così che poi, allora io amo i veli, tulle, tutto ciò che è svolazzante, quindi lasciamo perdere. E quindi è fatta così, sembra un vestitino in realtà, poi ve lo farò vedere indossato, ma è una tuta ed è veramente veramente troppo troppo carina, credo che anche tipo per andare a cena fuori, a ballare non dico perché veramente ormai ciaone, però secondo me per una cena fuori è molto molto elegante. Possiamo pensare anche un bellissimo outfit di San Valentino, ma magari vi farò un video e vedremo insomma gli outfit per magari andare a cena fuori per San Valentino, è molto romantico. Forse è abbastanza eccentrico questo merletto qui, però mi piaceva troppo ragazzi e quindi io l'ho preso. In realtà si potrebbe anche togliere volendo, ma non lo so, vedremo poi strada facendo. Poi 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 ho preso due vestiti, sono molto molto simili. Anche di questo ho preso una M, ci sono sempre fiorellini, sempre svolazzante, vi faccio vedere, guardate quanto è bella la manica, a tre quarti, svolazzante, con questi sempre bottoncini, si chiude poi in vita, guardate quanto è bello, e poi c'ha gli spacchi, è fantastico, lo adoro veramente. Poi base nera quasi sempre io e ragazzi per me è meraviglioso. Allora adesso ve li metto vicini perché visti così possono sembrare praticamente identici, ma sono differenti. Allora, tanto per cominciare, la fantasia è questa qui, col bluetto, sempre base nera e con il rosa. Ton, questo non ha gli spacchi, è lungo 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 così, senza spacchi e senza nulla, ha la manica lunga. Vi faccio vedere che sono due fantasie diverse, guardate, uno è con il rosa e uno è un po' più rossino, eccetera, quindi sono diversi. Allora, poi c'era questa qui, che per me è stupenda, non lo so, quando l'ho vista mi è sembrata troppo troppo bella. Ecco qui, non lo so, mi dà una sensazione tipo di spagnolo, ha la manica lunga, un po' così frufru alla fine, con le ruches. Il colletto è, eccolo qui, si annoda ed è stupenda, ed è stupenda, è un vestitino molto molto carino e amo la fantasia, l'adoro, è bellissima. E poi ragazzi ho preso il cappello della discordia, diciamo che questo cappellino a mia madre non piaceva, devo dire la verità, ha detto ma che cavolo ti metti, veramente sembri un funghetto. Ma allora ragazzi, io lo amo, guardate quanto è bello, lo amo, è caldissimo, dovete sapere che io soffro di cervicale. Sembro un po' puffettina, un po' veramente donna delle nevi, ma io i cappelli così, cioè li porterei sempre, soffro di cervicale, anche in primavera devo mettere dei cappelli. Certo, magari questo non andrà in primavera, ma sinceramente non ho potuto non prenderlo, lo adoro. Questo l'ho pagato 7,99 euro, stava 13 e mi sembrava troppo carino. Allora, so che non è solito far vedere, insomma, nei video hall intimo, però io vi devo far troppo vedere una mutandina che ho presa da Tezenis, che aveva il 50, che per me veramente è top, oddio veramente stupenda. Stava 5,90 e l'ho pagata la metà, faccio vedere solo questa parte. In pratica c'ha gli avocado, ma è stupendo, cioè per me è meravigliosa, perché non solo ha gli avocado, però ha anche questa parte un pochino qui col merletto. Poi vi volevo far vedere quest'altra che ho preso, vi faccio vedere solo le fantasie, io prendo tutte brasiliane, partiamo da questo presupposto, con i fiorellini. Ah vabbè, quest'altra invece è tipo culotte, con questo colore grigio perla. E poi ho preso queste qui basic, soltanto che avevano la parte di dietro così, con il merletto. Niente, lo volevo far sapere e vedere, anche se qualcuno griderà allo scandalo, perché sono in poche a far vedere le mutande, ma voglio dire ragazzi, cioè le mutande non è che ve le sto facendo vedere indossate, ma soltanto vi voglio far vedere che ce ne sono di molto carine in giro. E il video haul è finito, devo dire la verità, non so se farò un altro giro di saldi, un giro per saldi. C'è solo un negozio che in realtà vorrei vedere, perché me ne hanno parlato molto bene, ed è Chiavi. Ditemi voi se siete mai andati da Chiavi a spendere. Quindi questo haul, come avete visto, è tutto Zara. Penso di aver preso veramente forse le cose più belle di Zara, almeno secondo me. Fatemi sapere cosa vi piace e cosa non vi piace. È vero che ormai non lo cambierò più, perché ormai basta, mi sono annoiata di cambiare. Però mi piace sapere le vostre opinioni, come ben sapete. Quindi vi mando un bacio grandissimo, ci vediamo al prossimo video. Anzi, fatemi anche sapere che video vorreste vedere. Mi fa sempre piacere fare video che comunque a voi interessano. Io ho già delle idee, però mi fa sempre piacere, lo sapete. Quindi bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!